I giorni passano e si avvicina la data della proclamazione dell'ex sindaco di Salerno De Luca come nuovo presidente della giunta regionale della Campania, un atto affidato al presidente del collegio regionale di garanzia elettorale, la dottoressa Maria Rosaria Cultrera, presso la Corte d'Appello di Napoli, che dovrebbe esserci entro una decina di giorni. Soltanto dopo dovrebbe scattare la segnalazione alla prefettura di Napoli della condanna di primo grado da parte del presidente del Tribunale di Salerno De Filippis, a seguire la trasmissione della condanna al ministro degli affari regionali e a quello dell'interno, da parte del prefetto di Napoli, Gerarda Maria Pantalone. L'iter si concluderebbe poi con la trasmissione degli atti alla presidenza del Consiglio, da parte del ministro Alfano e dello stesso Renzi, responsabile ad interim degli affari regionali. Al premere invece toccherà il decreto di sospensione. Prima di allora però De Luca potrebbe incassare un possibile verdetto giudiziario a favore e presentarsi alla regione con una posizione differente. Il 19 giugno, davanti al Tribunale di Napoli, si presenteranno le parti per la discussione della sospensiva del sindaco del capologo Partenopeo, dopo la sentenza che ha affidato la competenza sui ricorsi per la legge Severino dai giudici amministrativi a quelli ordinari. Tra sei giorni, quindi, anche se la decisione potrebbe slittare almeno al 22, il Tribunale Napoletano potrebbe confermare in carica il sindaco De Magistris, anche lui interessato dalla sospensione a causa della legge Severino. Se così fosse, De Luca potrebbe fare affidamento su un pronunciamento favorevole da indicare come precedente e importante per riuscire a restare in sella l'amministrazione regionale campana. In sostanza, quell'alleanza De Luca-De Magistris, che il centrodestra teme per le prossime elezioni politiche, potrebbe virtualmente proporsi già nelle aule dei Tribunali.